Ancora sveglia. Ieri da Riccardo, scusami. Si è fermato un SUV oggi qui davanti. Un SUV nero con quel tipo di ieri che dicevi che non era nessuno. Ho controllato sulle telecamere e si è fermato qui davanti casa nostra per due ore. Che sta succedendo? Io non so dirti niente di preciso. Ma non mi interessa qualcosa di preciso, dimmi qualcosa! Lasciami! Dimmi cosa sta succedendo. Riccardo ha ricevuto delle minacce. All'inizio gli ho detto che non era niente di serio. Invece poi è arrivato quel tipo col SUV, quello che hai visto anche tu. E chi era? Sembra assurdo, Silvia, ma io non lo so. Mi ha soltanto fatto capire di stare zitto e di non collaborare con i magistrati. per il vostro portare con i magistrati. per il vostro portare. I vostro portare con i magistrati. Grazie a tutti